42 giorni di siccità da vittorie che evaporano nell'abbraccio finale di tutti i giocatori nero-azzurri, anche se la giostra degli impicci accoglie un nuovo ospite, Ventola, per uno che ritrova il campo, Roberto Baggio. Spalletti e Simoni si parlano a viso aperto e si affrontano in modo analogo. Simeone torna nel suo reparto lasciando a Bergomi il compito di libero. La Sampdoria schiera il difensore Castellini a centrocampo nell'unico accenno di prudenza che si perde subito quando il contatto in area dello stesso giocatore con Ventola fa indicare all'arbitro Trentalange il dischetto del rigore. Freddo, lucido, deciso, preciso. Il tiro di Giorcaef dà il primo pensiero della giornata Spalletti, il primo abbraccio liberatorio ai compagni. Se la difesa blu cerchiata resta troppo aperta, ci pensa Ferrona a chiudere i varchi più pericolosi, ma c'è pronta un'amara fotocopia per il portiere. Questa volta l'ingenuo braccio di Ficcini addosso a Zanetti costa il secondo rigore della gara e ancora Giorcaef ripete tutto come un automa programmato alla perfezione. 2-0 stessa angolazione, stessa potenza. La Sampdoria accusa il colpo ma fatica a farsi avanti, legge l'impegna Pagliuca da lontano. Molto più impegnativo il compito in classe che Simoni ha affidato a Colonnese. Marcare Ortega non è facile, concentrazione e velocità non devono mai venire meno, tanto che il difensore nero-azzurro raccoglie una munizione che lo toglierà dai giochi per la prossima gara con la Fiorentina. Più convincente l'Inter, più profonda nei suoi movimenti, più pericolosa nelle sue conclusioni. Sì, capitano queste cose nel campionato, la giornata positiva, bisogna tenere duro anche nelle giornate non positive, insomma. Quindi questo ci riavvicina un pochettino alla testa, è una responsabilità in più, è un dovere in più da parte dei nostri. Le occasioni per i blucerchiati scarseggiano e quando ci sono vengono in qualche modo sventate. Servono poco le proteste sull'abbraccio di Bergomi a Franceschetti. Cade male Nicola ventola, si acciacca a stiramento al ginocchio destro. Cinque settimane di stop, ma entra Roberto Baggio, la sua tecnica fa subito esaltare lo stadio. La Sampdoria non smette di cercare la giusta reazione, peccato che Ortega ci metta una mano di troppo rendendo nulla il gol. Poi è proprio l'uomo del giorno a sciupare l'occasione più ghiotta. Baggio centra a Ferron invece della porta e non si dà pace, ma il fantasista serve ai compagni tutte le volte in cui è necessario. Palmieri e soprattutto Ortega non arrivano fin in fondo alle proprie azioni, a volte solo per qualche centimetro. I correttivi di Spalletti si chiamano Cate per l'Egel e Vergassola per Franceschetti. Non si chiudono a Riccio gli ospiti, ma la testa di Zamorano svetta più alta e precisa di tutte. Il suo gol nato da una punizione è bello e meritato. Se Simoni si rammarica per l'infortunio di Ventola, in attesa del miglior Ronaldo può elogiare Baggio. Lui ha migliorato molto, infatti io l'ho portato in panchina pensando poi di farlo giocare senz'altro. Noi abbiamo pensato che Inter sarà il grande campione con Baggio, Ronaldo, Ronaldo non c'è, Baggio non c'è, tutti gli altri non ci sono, noi siamo venuti da Ronaldo per vedere qui e cazzarola, Ronaldo non è. Vabbè c'è Baggio. C'è Baggio? Meno male, ma speriamo che lui gioca bene. Resta ancora un sogno, non soltanto per i tifosi nostrani, vedere in campo insieme Baggio e Ronaldo. Ma quanto fa 9 più 10? Si chiede ironico un noto mensile inglese che definisce Baggio missing, scomparso. Dalla patina dei rotocalchi, come per incanto, rispunta San Siro. Magici attrezzi alla mano nel primo tempo e piedi nel secondo, ed è subito Baggio mania. Basta un sublime colpo di tacco, qualche assist di classe ed ecco applausi a scena aperta. La cosa più bella è che ogni palla che tocchi c'è proprio l'entusiasmo della curva, del pubblico, sembri magico? No, forse perché vincevamo allora erano tutti contenti. 50 giorni fa l'ultima volta di Baggio a San Siro, sembra ieri. Oggi tocca a lui e Ronaldo sta a guardare in una dispettosa staffetta. S'allunga per conquistare il campo del primo tempo, si dispera senza pace per il più facile dei gol sbagliato nel secondo. Staresti mangiato persino la terra di San Siro? Sicuro, era nervoso che me l'ha preso perché sono occasioni un po' che non capitano ogni partita e il fatto così deve la spreca in quel modo mi ha lasciato amare in bocca. Oggi si può anche scherzare con Simoni sulle sconfitte altrui, a uno così perdoni anche il gol mangiato e mentre Ronaldo se ne va dalla tribuna gli interisti continuano a sognare. Il sogno realtà di vera il segno è stato un prezzo. Chiudo, è un prezzo. Tello il segno di aver trovato con il vigile.